Con una nota congiunta della CISL Funzione Pubblica di Agrigento Caltanissetta e Denna, Flaica Cube Provinciale, Will Temp, Will FPL e Comsal Snalb Provinciale, i sindacati e rappresentanza dei lavoratori della società che opera al centro governativo di Pian del Lago si rivolgono al prefetto di Caltanissetta per chiedere un incontro urgente, al fine di poter trovare possibili soluzioni, si legge, per evitare il rischio di licenziamento dei suddetti lavoratori. Chiediamo un ulteriore intervento del prefetto perché adesso la questione è proprio gravissima. Parliamo della possibilità che 25 lavoratori vengano licenziati e con loro chiaramente le loro famiglie, nel senso che quasi tutti loro sono monoreddito. Non è possibile, non è giusto, hanno investito in questo territorio, sono 20 anni e più che fanno queste attività e hanno soltanto favorito la città nel senso che hanno prestato la loro attività dentro il centro, ma anche quando queste persone sono state fuori dal centro, li hanno sempre guidati. Quindi è assolutamente ingiusto, Caltanissetta non se lo può permettere e noi non lo permetteremo. Non ci capacitiamo che tutto questo, l'inizio dell'iter relativo al licenziamento collettivo avvenga a circa un mese dalla possibilità del cambio a falto. Dobbiamo precisare pure un'altra cosa, che non ci capacitiamo nemmeno per quale motivo un centro governativo importante come quello di Caltanissetta non riceve gli ospiti che ha possibilità di curare, di assistere, di accogliere. Mentre sembrerebbe che in altri hotspot siano pieni o quasi. Anche questo chiederemo l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto. Nella nota si fa anche riferimento alle mensilità di stipendio di febbraio, marzo e aprile che non sarebbero state pagate ai lavoratori.